Ciao ragazzi, sono Maria Paola, laureanda di Biotecnologie Molecolari Industriali presso l'Università degli Studi dell'Insubria. Ho scelto questo corso magistrale perché mi dà la possibilità di continuare il mio percorso di studi intrapreso durante la triennale conseguita presso l'Università di Messina in Sicilia e mi consente anche di ampliare le mie conoscenze in questo campo offrendomi la preparazione e la formazione adeguate per poter inserirmi nel mondo del lavoro in diversi ambiti. A tal proposito sto svolgendo il tirocino formativo presso il Laboratorio di Biotecnologie Animali e Acquacultura del gruppo di lavoro della professoressa Terova. Inoltre la nostra struttura è una delle poche a livello nazionale ad avere al suo interno uno stabulario che permette grazie ai fondi per la ricerca sia nazionali che europei di promuovere numerosi progetti di rilevante interesse applicativo nel settore agroalimentare.